La tigre del farweb che gioca a Minecraft Con qual volume che c'è Yook 40 30 Ciao a tutti ragazzi sono Yook E benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft nella Nerdocraft Come al solito oggi Sono da solo, mancano Elekiria, vi spiego In poche parole, cerco poche parole Ragazzi fermatevi un attimo, stoppate un attimo Il video, ok riprendetelo E ragazzi Avete messo il pollice in su Già da subito Aspettate dopo Metà video, alla fine Mi raccomando però ragazzi Grazie a tutti per i ultimi due video Di Minecraft Oltre ai commenti Che vi è gradito E vi piace la webcam Ora ho anche la webcam ultra HD Mi è arrivata direttamente dalla NASA sulla Luna E ho visto anche che ragazzi Ci sono oltre 3000 mi piace Nell'ultimo che ho caricato Addirittura quasi 4000 Ragazzi Un bacione a tutti E mi fa piacere Perché dai pollici in su Si vede se è una cosa piace O non piace Per cui grazie a tutti E soprattutto grazie a me Perché vi piace No, grazie a voi Perché ve la fate Vabbè qualcosa del genere Dicevo Elekiria Che è successo? Ragazzi Loro registrano solamente la sera E pomeriggio sono i rintracciabili Ora mi metterò d'accordo Per fare qualche video con loro Akimbo Nanoz Ragazzi Poverino Poveretto Mi dispiace tanto È partito È partito È andato in Non so dove Al mare Per cui in questo momento Sarà in acqua E col salvagente Logicamente Perché non sa nuotare Sarà sotto il sole Bollente E cuocente Si sarà messo la crema No ragazzi Akimbo è partito in vacanza Tornerà a metà agosto E quit Quit 108 Quit 108 L'ho lasciato in pizzeria Due settimane fa E o sta ancora pagando il conto O sta litigando col pizzaiolo Per pagare Perché non so che fine ha fatto No ragazzi Anche quit 108 Farà qualche video con me Solo che è preso ultimamente Ragazzi Perché stiamo Io e quit 108 E Akimbo Nanos Ormai adesso è partito Con cui sia a metà agosto Tornerà Per il momento Io e quit 108 Stiamo organizzando Alcune cose carine Belle e fighe Sia in ufficio Che fuori dall'ufficio Che fuori da youtube Che cazzi nostri No poche parole ragazzi Stiamo creando qualcosa Di veramente figo Grosso Importante Sia per noi Che per voi Che per tutti Per cui Vi ho spiegato Vi ho racchiuso Tutto in un discorso Il motivo Perché sono da solo Ora ragazzi Ditemi nei commenti Poi iniziamo il video Lasciamo stare in attimo Minecraft Fate finita che non guardate Minecraft Vi dicevo appunto che No a parte gli scherzi Ehm Ditemi nei commenti ragazzi Se preferite Questa è una cosa che voglio Veramente sapere Preferite i video Con Quint Akimbo Quelle chili E il resto Di video Da solo Basta che me lo dite Ragazzi Perché I pollici in su Fanno veramente piacere Vederne tanti Fa ancora più piacere Ti dà ancora più voglia Di continuare una serie Un video O qualsiasi cosa Ehm Per cui Ne vorrei tanti Non dico in tutti i video Ma quasi tutti E farò quello che piace a voi Detto questo Ragazzi Tagliate il video Fate finta di niente Partiamo adesso Ciao a tutti ragazzi Benvenuti in questo video Nuovo della Nerdocraft Ehm Siamo nella mia Stanza Ehm Dicevo 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 Allora Mi serviranno questi oggi Ma me ne servirà uno In teoria No non mi serviranno Stavo scherzando Allora Cosa c'ho nell'inventario ragazzi Nell'episodio scorso Eramo rimasti nel Nedor Ho questa roba qui Perché voglio andare a cuocere E vedere di cosa si tratta Poi abbiamo trovato lo zainetto Che noi svuoteremo Ragazzi guardate Finchè rimane un item dentro A noi rimane lo zainetto In mano Come vedete Quando ne togliamo L'ultimo item Pampete Sparisce lo zainetto Perduto Per cui se volete Il zainetto giusto per collezione Vi raccomando Non togliete l'ultimo item Qui ho fatto la cesta Con racchiuso più o meno Tutta la roba del nether Che ora proveremo Questo 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 Basta E poi 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 Mettiamo via Questi qui Dove Ok i secchi sono qua Perfetto L'armatura Si 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 La mettiamo Qui 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 Perfect I Kits The Perfect Allora Allora E' notte No E' giorno E' buio Andiamo a cuocere Questa roba qua ragazzi Perché sono curioso Di vedere fuori Che le esce Allora So che non vanno qua E invece Dicevo appunto Che vanno qua Perché appunto Ma fa la polvere Non ho capito Si fa la polvere Però non Raddoppia Si raddoppia A volte raddoppia A volte non raddoppia Non ho capito Un cazzo ragazzi Raddoppia o non raddoppia Ne avevo quattro Giusto Ne avevo quattro Ah vi faccio vedere Qui Ho messo Sulla destra Ho messo l'arancione L'arancione ossia Dove fuori escono E mi escono Direttamente Nella cesta Pampete Allora No ne ha fatti molti Di più a voglia Ne avevo quattro Vediamo un po' Questo qua è uno Lo shadow Vediamo un po' eh Tantantà Pappappà Accendiamo Pizzichiamo un attimo qui Ne ha fatti due Perfect It's the perfect Oh yeah Deve essere una cosa random Perché Erano quattro Dovrebbero essere otto Invece sono sette Ah no no Arriva l'ottavo Arriva l'ottavo nano Arriva l'ottavo nano Arriva l'ottavo nano Eccolo qua Ottavo nano Perfetto Poi mettiamo a cuocere Questi due Poi mettiamo a cuocere Qui e ski Che ski E poi mettiamo a cuocere Che ski Poi mettiamo a cuocere Che ski Poi mettiamo a cuocere Che ski Tanchete Tanchete Che fighi Stilingotti ragazzi Questi qua sono Della metalur G2 Ossia Faccio vedere un esempio Premendo la U Si possono fare Diverse cose Tipo Attrezzi Armature O sia O anche dei blocchi Fighi veramente ragazzi Con tutti i colori Per cui questo sarà Arancione Con gli altri colori Altri colori Vedete Tutte Attrezzature strane Armature strane Secchi Forbici E poi questo qua L'ignatius smelter Che dovremmo vedere A che cacchio servono Sti smelter ragazzi Ne abbiamo già otto Potremmo fare uno smelter Vediamo un po' Vedete Tutti i colori Facciamo l'ultimo esempio Non mi vuole U A Uguale Identico Cambia solamente Il colore Poi non so Se cambierà anche La durabilità E cagate varie Bene Abbiamo visto tutto ciò E notte Andiamo a fare la nanna Per il momento Facciando Nanna Ypoint Togliamo l'occhietto A tutti Che scoschi Anche te Ragazzi Mentre andiamo a fare la nanna Volevo fare una cosa Importantissima Una cosa veramente importante Un abbraccio Un bacione E un in bocca Grossissimo al lupo A JumpyTech Ho letto il post su facebook Suo Del suo facebook Chi non lo sa Ha fatto un post Dicendo delle cose Non tanto belle Diciamo Non ho voglia di ripeterle Chi vuole Vado a vedere il suo post Su facebook Per cui Io ci tenevo solamente A fare un grosso in bocca al lupo Bene Detto questo Continiamo Allora Vedete che in mano C'ho Strano rumore Vedete che in mano C'ho tutta questa roba Del nether Voglio provare ragazzi Se va nel mondo Normale Normale Allora i funghi Da quel che sappia Da quel che so Si pianticano Si pianticano Al buio Vedete qua non vanno Non si piantano Si piantano al buio Dice un creeper Vediamo se qua Me li fa piantare Me li fa piantare Scusate ma Ma come crescono Facciamo una cosa del genere Tipo random Uno verde Uno blu E uno viola Vediamo se veramente Crescono ragazzi Ok Abbiamo piantato i funghi Che è sto rumore Porca la puttegna Via 360 Oh Madonna mia 360 Santiforlocco Allora Funghi pianteti Vediamo questi qua Se si possono piantare Vediamo un po' Perché non vorrei che vadano Solo nel nether E infatti Non vanno Azzo Azzo però Aspettate un attimo Aspettate un attimo Che magari vanno Con la terra Del nether Del nether Del nether Vediamo un po' Prendiamo la nether Brick Tanchete Prendiamo un po' Un po' Un po' Un po' Di kaiser Andiamo un po' Anzi senza andarcene su Facciamo una prova E ti pareva E lo sapevo Si 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 E lo sapevo Si 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 E lo sapevo 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 Si 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 Vediamo un po' Quit non mi ucciderà Diciamo Speriamo Che quit Non mi ucciderà La 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 Uno Due Poi abbiamo Quelli rossi Ne metterei Vediamo un po' Facciamo una cosa Figa Uno rosso Uno blu No allora facciamo così Vaffan cool Uno blu Uno rosso Uno blu Uno rosso Tanchete Tanchete Vediamo un po' Anzi ne mettiamo un altro Giusto per fare 3 e 3 3 e 3 Manca quello rosso Voilà Ok vediamo però sempre se crescono Non so se crescono Vediamo se crescono Non so se crescono Vediamo se crescono Vedremo Poi ultima provica Ultima provola Usce in fort I funghi Non sono cresciuti Dovrei provare col Bon meal Si può provare col Bon meal Ragazzi Le si Può provare col Bon meal Ho perso qualche cosa La 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 Il bon meal Dove gacchio è Qua Ossa 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 Con le ossa Facciamo il bon meal Vediamo Se crescono Questi qua Oh 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 Attenzione Attenzione Che crescono Le ho finisciuto Il bon meal Vabbè Quelli la li facciamo crescere Dai Che bottico Ragazzi Mi sono cagato sotto Che stanno facendo dei lavori Dietro casa mia E mi stanno buttando giù la casa Porca di quella puttegna Oggi esco con la scopa in mano Ve lo dico Oggi esco con la scopa in mano E li caccio Vediamo i funghi No i funghi non vanno No i funghi non vanno No i funghi non vanno Allora Proviamo gli alberelli Li possiamo provare qua Uno Non cresce Non cresce Vabbè magari crescerà da solo Dicete C'è una prova Uno qua E uno qua Che cazzo Di chi è sta borsetta Ma io trovo le borsette Così random Guardate cosa c'è dentro Vabbè Io trovo le borsette random Ragazzi Così proprio Alla Kaiser Di Kaiser Allora Ottimo Questo qua Non si può piantare Però Mi è venisciuta Nell'idea Questo qui Dovrebbe essere L'albero al contrario Giusto? Voi dicete che Piazzicandolo Al contrario Si può Come per esempio Non so Così Così Eh no però che pirla Ci dovrei mettere Ah forse quella Questa qua Guardate Ma allora va anche Non al contrario No Solo al contrario Guardate che figheta Allora lo metterei Proprio in alto In alto Dove lo posso mettere Dove lo posso mettere ragazzi Dove lo posso mettere ragazzi Qua Qua così No Facciamo una cosa Più figa Del genere Figa Voglio fare una prova Ragazzi Voglio fare una provola Una provola Quanto era alto Più o meno Così Così A Wanderstein O macini E mondo Cazzo Metti A Wanderstein O macini Vediamo un po' Vediamo un po' ragazzi Se così Micro Boom E' cresciuto E' cresciuto Oh capo Oh capo De cazzo Oh capo De cazzo Oh è cresciuto Oh capo De cazzo L'è proprio Un capo De cazzo Ragazzi L'è cresciuto Oh cazzo Ragazzi è cresciuto Veramente Che ci posso fare Che ci posso fare No non inventare qualcosa di figo Ragazzi di questa roba qui Allora Io direi di correre a casa un attimo Per la forzica Per la forzica Corriamo a casa un attimo Anzi Prima di tutto raccogliamo questa C'è getto Che sto parlando Raccogliamo quest'albero Veloce 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 Andiamo a casa Ah si voglio fare una cosa fighetta ragazzi Una voglio fare una cosa fighetta Che ancora non ho fatto Mi servono 8 pezzi di pelle 8 pezzi Ne abbiamo solo 7 Povertà assoluta No però forse 8 pezzi di pelle Mi serve della cosa Della legna Voilà Mi serve una crafting table Facciamo una crafting table Pampete Poi facciamo Dei legnetti Poi facciamo Un cartellone pubblicitario Così Così Poi facciamo Ne vengono 3 Perfetto Poi facciamo così ragazzi Guardate Uno zainetto Così ci viene lo zainetto Il backpack Noi aggiungendoci una crafting table Pampete Workbench Backpack Backpack Capito? Ok cosa è? Non è nient'altro che Uno zainetto Con la crafting Non è nient'altro che Non è uno zainetto Ma è solamente una crafting table Portetile Portetile Shift Tasto destro Crafting Crafting Voilà Li diamo anche il nomignolo Perfect Perfect ragazzi Perfect Una fighetta Una fighetta Io l'ho detto Una fighetta Per cui Vorrei mettere Un cartelluccio Qui Aio Un cartelluccio Qua In modo che Se Quitte e gli altri Non vedono i miei video Ci mettiamo un paio di cartelli Allora Albero Al Contrario Tancete Fase Di Sper Esperimenta Mentizione Esperimenta Allora Fase di Esperimenta Mentizione Albero Al Contrario Questo qua Così Ma Sono bagnato le scarpe Nuove Avevo comprato adesso Le scarpe della Nike Me le sono bagnate tutte Porca La puttegna Ragazzi Spero il video vi sia piaciuto Come al solito E E E E Diciamo E Che dirvi Che dirvi Che dirvi Un applauso E scusate Ma che applauso Un pollice in su Nei prossimi video Magari andremo a dare un'occhiata All'orto E faremo altre cose Abbastanza figole Da Luke e tutto Ciao a tutti